La Danimarca andrà al voto il 15 settembre. Il premier Lars Löcke Rasmussen ha annunciato le elezioni anticipate dopo il fallimento di sei settimane di negoziati con il partito del popolo danese. La coalizione è crollata sui piani contro la crisi finanziaria, la formazione di estrema destra ha appoggiato il governo di minoranza per dieci anni.